Ancora un rinvio per quello che riguarda il procedimento penale sulla morte di Martina Rossi a chiederlo. Sono stati gli avvocati della difesa dei due ragazzi che sono imputati nel procedimento e hanno chiesto specificatamente che appunto il procedimento penale venisse spostato dalla sezione feriale della Cassazione alla quarta sezione penale. La sezione feriale può operare nei processi, possono essere assegnati i processi soltanto se la prescrizione è prossima a maturare nel periodo che va dal 1 al 31 agosto nei 45 giorni successivi, quindi se arriva al 15 di ottobre. Maturando successivamente la prescrizione non c'erano i criteri per l'assegnazione alla sezione feriale, quindi ovviamente l'udienza è stata aggiornata al 7 ottobre davanti alla quarta sezione penale dove già era stato incardinato il processo relativo al ricorso per il mio assistito. Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni sono a processo con l'accusa di tentata violenza sessuale di gruppo. Martina Rossi, la ventenne ligure, precipitò da un balcone di un hotel di Palma de Mallorca nell'agosto del 2011. Secondo l'accusa perché sfuggiva da un tentativo di violenza dei due giovani aretini. Secondo i giudici il reato si prescrive il 16 di ottobre. Cioè si doveva portare avanti questo processo in tutti i modi, cosa che non c'era secondo il mio parere, nessun motivo di correre. Potevano essere sentiti praticamente i testimoni, riaccolte i mezzi istruttori da noi proposti che invece, niente, noi abbiamo proposto e nessuno ci ha dato ascolto. La giustizia è diventata ormai una corsa ad ostacoli, ha detto Bruno Rossi, il papà di Martina che ha sempre assistito assieme alla moglie a tutte le udienze. So che c'è la volontà di fare nella giustizia. Ho incontrato tanta gente che ha voglia di fare, ma ci sono stati anche bastoni tra le ruote. Ci sono dinamiche nella giustizia che vanno cambiate, non è possibile che siano così. Perché ricordiamoci sempre che siamo arrivati in aula dopo sette anni dal fatto. E questo non è certo per colpa o per strategie dilatorie della difesa. Noi ci siamo sempre voluti difendere nel processo. A noi il problema della prescrizione ha danneggiato enormemente gli imputati, proprio per il motivo che diceva il collega. Ovvero proprio perché è mancato quell'approfondimento istruttorio che avrebbe potuto portare all'accertamento della verità già in primo grado. Purtroppo castrando e sacrificando sull'altare della prescrizione 24 testi a difesa, questo evidentemente non è stato possibile. Quindi su questo dovremmo fare un ragionamento e soprattutto una valutazione. Più che guardare alla prescrizione, guardare al merito del processo. Guardare le prove che ci sono dell'innocenza del nostro assistito. Noi siamo convinti anche dell'altro ragazzo, ma soprattutto dell'innocenza del nostro assistito. Che è assolutamente estraneo da fatti. Non si è mai voluto, ripeto, guardare al cuore delle prove, ammettere queste, ammettere i testi, dare lo sfogo processuale che questo, diciamo, un processo indiziario, puramente indiziario, sicuramente richiedeva.